Ho cercato di fare questo video il più corto possibile perché non mi piace fare video lunghi. Così ho dovuto spiegare le cose velocemente. Se non capite qualcosa, cliccate sul tasto pausa, tornate indietro, riguardate e comprenderete. Fidatevi di me. Ciao a tutti, sono Zack. Quanti di voi hanno sentito che la matematica funziona sulla Terra a globo ma non funziona sulla Terra piana. Siete mai andati a vedere se è vero? Avete mai provato a sfatarla? Avete mai provato a vedere come Eratostene ed altri sono arrivati a credere al modello a globo molto tempo fa? La loro matematica era veramente impressionante, la usiamo ancora oggi. Funziona molto bene. Ma questo significa che viviamo su un globo? Questo significa che se la matematica funziona su qualsiasi cosa, questa qualsiasi cosa deve essere quello che dice la matematica? La matematica non mente. Sì, è vero. Ma cosa succede se senza volerlo dimentichiamo qualcosa mentre facciamo uso della matematica ed alimentiamo il mondo intero? Generazione dopo generazione, migliaia di anni dopo, qualcuno scopre il pezzo mancante. Rifà le operazioni e scopre che tutti i calcoli sono sbagliati? Se foste lui, che fareste? Tornate a sedervi o a dormire o lo dite a tutti quanti. La gente vi crederà? Questo video è molto importante e richiede molta concentrazione. Pertanto smettete quello che state facendo e focalizzatevi su questo video. Ma se dopo aver visto l'intero video sentite che non siete arrivati al dunque, guardatelo nuovamente. Ci arriverete. Fidatevi di me. Ah, un'altra cosa. Qui si lavora con i numeri, ma non preoccupatevi. Anche se siete il peggior studente, riuscirete a capire perché qui la matematica è più che facile. Tutto quello che dovete fare è stare attenti. Bene, parliamo di come hanno pensato che la Terra è un globo duemila anni fa. Un signore chiamato Eratostene si presume abbia misurato la circonferenza della Terra globo usando solo il suo cervello. Ed i nostri scienziati oggi concordano col suo metodo dicendo che i suoi calcoli sono molto accurati. E sono d'accordo con questo, ma ora voglio mostrarvi la sua matematica molto accurata con una realtà completamente differente. Proprio adesso abbiamo un altro team in Indonesia ed il suo capo si chiama Boss Darling dal canale Flutter 101. Date un'occhiata ed iscrivetevi. Bene, ho organizzato un esperimento che hanno fatto e che funziona come ho ideato. Questo esperimento va a dimostrare come possiamo tramutare un tavolo piatto in un tavolo rotondo. Sì, avete compreso. Andiamo a convertire un tavolo piano in un tavolo rotondo usando la matematica e le ombre. In altre parole, andiamo a rifare l'esperimento di Eratostene in una scala minore, considerando la tavola piana come la Terra piatta. Giusto? Ma prima di arrivare a questo, devo spiegarvi alcune cose affinché possiate comprendere l'esperimento perché è un pochino complicato. Ora, la prima cosa con cui dobbiamo iniziare è l'angolo di elevazione del Sole. Sono sicuro che molti di voi sanno già come funziona, ma questa volta andiamo ad approfondirlo. Pertanto, se sapete già di cosa sto parlando, siate pazienti e continuate a guardare fino alla fine. Non battete cilio. Ok, se piantate un palo nel terreno per misurare l'ombra avete tre angoli. Questa è la base del triangolo che deve essere a 90 gradi. Questo è l'angolo di elevazione e questo è l'angolo che ha usato Eratostene nei suoi calcoli. Non ho trovato un bel nome per questo, ma lo chiamo l'angolo dell'inganno. A questo punto arriva la domanda più ovvia che molte persone fanno. Per quale motivo Eratostene riteneva che la Terra fosse un globo in primo luogo, perché ha usato un angolo specifico per misurare la circonferenza della Terra? Ok, rispondiamo a queste domande con una sola risposta. Sappiamo che l'esperimento di Eratostene è stato fatto da alcune persone, ma assumiamo sia vero. Bene, per quanto riguarda la storia, Eratostene non è stato il primo a pensare che la Terra poteva essere un globo. Ma il nostro argomento oggi non tratta qual è stata la prima persona che ha affermato che la Terra è un globo. Il nostro argomento è perché hanno affermato che è un globo. La risposta è semplice. Hanno usato l'angolo del Sole. Questi angoli possono essere sia angoli verticali che angoli orizzontali e tutte e due non possono funzionare su una Terra piatta. Possono funzionare solo sul globo. E oggi parliamo di angoli verticali o angoli di elevazione. E qui il perché non funzionano. Se mettete una lampadina su un disco piatto cercando di triangolarla usando le ombre come ho fatto in questo video un anno e mezzo fa, siete in grado di triangolarla perfettamente e l'elevazione degli angoli funziona. In altre parole se usate questo in un programma tridimensionale disegnando linee immaginarie o coni come questo, nell'aria che rappresentano i raggi di luce andranno ad intersecare tutti al centro della lampadina. Pertanto non importa quanti oggetti usate. Sarete sempre in grado di localizzare la lampadina usando due cose. Uno, l'angolo di elevazione che si può calcolare con l'ombra e l'altezza degli oggetti. Due, la distanza fra gli oggetti. Cercate sempre di usare un software 3D per fare i vostri calcoli più facilmente. È chiaro adesso? Ok, andiamo a chiarirlo ancora un pochino perché è la base dell'argomento. Quindi andiamo a ripetere l'esperimento che abbiamo fatto tempo fa. Ma questa volta andiamo ad usare 9 oggetti sul piano piatto per triangolare la lampadina, non solo 3. Ovviamente vado a mostrarvelo su AutoCAD così potete capirlo. Poi ve lo mostrerò nella realtà. Siate pazienti, questa è la prima parte dell'esperimento. Questo è il tavolo su cui c'è un foglio A3 e 9 chiodi. Come potete vedere, immaginate di trovarvi su questo foglio e che questo foglio è la Terra. E questa lampadina è il Sole. Si trova a 50 cm sopra il tavolo. È esattamente a 90 gradi sopra il chiodo in centro. Tutti i chiodi sono alti 5 cm eccetto quello in centro. E la distanza di ogni chiodo è scritta sul foglio che vedete qui. La nostra unità di misura sono i centimetri, ok? Alcuni pensano che se si usano più di 3 oggetti non si è in grado di triangolare la lampadina. Sbagliano. Se fate il modello e lo fate nella realtà ottenete lo stesso risultato. Tutti gli angoli di elevazione, o per meglio dire i raggi di luce che arrivano dal centro della lampadina e tutti gli angoli di depressione arrivano alla punta delle ombre. Quindi i raggi di luce di questo esperimento devono intersecarsi nella lampadina. Queste le misure che abbiamo ottenuto con AutoCAD. Ovviamente questo è semplicemente un programma 3D. Ora andiamo a fare la stessa cosa nella realtà e avremo la stessa lunghezza delle ombre. Mi spiace di non avere alcun modo per dimostrarvi che non stiamo falsificando questo esperimento. Penso che ci sia un solo modo per verificarlo. Dovrete farlo voi stessi. Non fidatevi di me, fidatevi di voi stessi. Questi sono i signori che hanno fatto l'esperimento. Eiji e Dibam, Avat e Damar. Questo è l'esperimento. I chiodi sono alti 5 centimetri. Quello in centro è stato messo lì per dimostrare che la lampadina si trova sopra a 90 gradi e come potete vedere non ha alcuna ombra. Il chiodo più lontano si trova a 15 centimetri dal centro. Il più vicino è a 5 centimetri dal centro e l'ultimo è lontano 10 centimetri. Abbiamo usato 9 chiodi e tre distanze perché la lente non era abbastanza grande. Hanno sistemato i chiodi di 5 centimetri e la lampadina alle distanze adeguate e queste sono le misure di ogni ombra. Per favore, confrontate i risultati del modello 3D che vedete sullo schermo. Se fate questo correttamente otterrete dei risultati molto precisi. Ho fatto questo prima e le persone che mi hanno seguito già lo sanno. Pertanto, se siete nuovi e volete vedere questo dettagliatamente, guardate il mio video precedente cliccando semplicemente sul link che trovate nella descrizione. Il modello 3D qui combacia in modo accurato con la realtà. Tutte le ombre che ho ottenuto col modello in 3D combaciano con le ombre che abbiamo sul tavolo. E come ho detto prima, questa è solamente la prima parte. Aspettate per la seconda parte. Ora, se fossimo stati gli amici di Eratostene e avessimo voluto fare la stessa cosa col Sole nella realtà, il nostro esperimento sarebbe fallito. Non saremmo stati in grado di triangolare il Sole. I coni o le linee che avremmo disegnato per triangolare il Sole non potevano intersecare in un punto come nel modello 3D che vi ho appena mostrato. E questo ci farebbe pensare che la Terra non è piatta, perché la triangolazione ha funzionato nell'esperimento che abbiamo fatto sul tavolo piatto, ma non funziona col Sole nella realtà. Pertanto qualcosa deve essere sbagliato. Penserete che cos'è. Questo sta a significare che la Terra non è piana. Quindi, se veramente fossimo stati quegli scienziati, avremmo dovuto pensare qualcos'altro. Ad esempio, che la Terra è un globo. Ecco perché sono arrivati alla teoria del globo. Gli angoli di elevazione li hanno portati a pensare al modello globo. Loro hanno semplicemente fatto delle ipotesi basandosi sulla matematica. Perdonatemi se vado a ripetere un'altra volta. Se si usano più di tre posizioni per triangolare il Sole, supponendo che la Terra è piana, la vostra triangolazione non funzionerà mai. Non importa con quanta difficoltà proverete, fallerete sempre. I raggi del Sole non si intersecano mai in un punto. Ho fatto questo per tanto tempo e sono arrivato a questa conclusione. Qualcuno di voi potrebbe pensare che le distanze tra gli oggetti non sono precise. Per cui la triangolazione non funziona. E posso essere d'accordo su questo, ma anche se le distanze sono corrette al 100%, le triangolazioni non funzioneranno mai. E vado a dimostrarvi quello che sto dicendo con un ulteriore esperimento. Come già detto nei precedenti video sulla rifrazione, il Sole non si trova mai nella posizione reale. Anche la scienza moderna concorda su questo. Quello che si va a triangolare è il riflesso del Sole. E questo è il motivo per cui la vostra triangolazione non funziona mai. Immaginate che vi trovate sul fondo di una piscina cercando di triangolare una lampadina sopra l'acqua. Non riuscirete mai a triangolarla, a meno che non sappiate come funziona la rifrazione nell'acqua. L'esperimento ve lo spiegherà meglio. State con noi. Allora, Eratoste e gli suoi amici hanno deciso che la Terra non era piatta perché non c'era modo di far sì che gli angoli di elevazione funzionassero e avessero un senso. Ad esempio, ogni volta che triangolavo nel Sole da due punti, la distanza del Sole sembrava fosse all'incirca 4.800 km. E nello stesso momento, triangolando da altre due località, ottenevano la posizione di 6.400 km. Risolvere questo a quei tempi era impossibile ed era impossibile anche per noi fino a qualche mese fa. Comunque, questi matematici dovevano trovare il modo di far funzionare questi angoli. Pertanto, hanno ritenuto che la Terra è un grobo e che i raggi del Sole arrivano sulla Terra in linee parallele perché questo è l'unico modo per far sì che gli angoli funzionino. Così, il loro unico problema era come conoscere la circonferenza della Terra, perché i loro angoli funzionassero perfettamente. Eratoste ne ipotizzò questa brillante idea. C'era un pozzo a Siene, in Egitto, ed il Sole era solito passare direttamente sopra di esso una volta all'anno, il che significa che il Sole in quel momento si trovava a 90 gradi sopra il pozzo. L'anno successivo, la stessa data ed ora, andò ad Alessandria e piantato un palo in Terra, notò che il palo aveva un'ombra. Misurò quest'angolo dell'inganno che era 7,2 gradi. Allora pensò che la Terra doveva essere una sfera e che poteva calcolarla. Quello che aveva bisogno di conoscere era la distanza fra Siene ed Alessandria. Inviò un tizio per misurare la distanza che era circa 800 chilometri. Quindi questo angolo, giusto qui, 7,2 gradi, doveva essere uguale con l'angolo centrale di ogni sfera. E questo ha reso tutto quanto facile per lui. La sfera è 360 gradi. Pertanto tutto quello che doveva fare era dividere 360 gradi con l'angolo dell'inganno di 7,2 gradi per ottenere 50. Pertanto se disegniamo un cerchio come questo e disegniamo una linea come questa e la ripetiamo per 50 volte, otterremo questi angoli di 7,2 gradi fra ogni due linee. Quindi per ottenere la circonferenza della Terra dobbiamo moltiplicare 50 per la distanza che era di 800 chilometri ed ottenere 40.000 chilometri o 25.000 miglia. Ecco che questa è diventata la circonferenza della Terra fin da quei tempi ed era molto precisa per chi non aveva alcuna attrezzatura. La mossa molto intelligente della NASA. Tutto quello che bastava fare era correggere di un pochino i calcoli ed è così. Ora la matematica funziona magnificamente su questa nuova circonferenza del globo della Terra. 40.000 e 75 chilometri. Mi chiedo se tu fossi stato uno scienziato ed avessi voluto dimostrare che la Terra è un globo avresti fatto solo un esperimento e finita lì. Questo tipo Eratoste ne ha rifatto più volte l'esperimento in diversi luoghi prima di asserire che era un globo? Ok, non l'ha fatto ma non è un problema ora, crediamoci. Ok, voglio mostrarvi come funzionano gli angoli sul modello del globo. Non importa quanto è grande il globo, gli angoli funzionano nello stesso modo. Ma noi usiamo il raggio esatto della Terra di 6.371 chilometri. Vado a dividere la Terra in 24 parti perché la Terra impiega 24 ore per ruotare. Quindi questa è la distanza fra ogni punto, il che significa che se vi trovate qui il vostro angolo di elevazione sarà di 90 gradi perché il Sole è proprio sopra la vostra testa. Ora immaginate che avete degli amici in ogni parte del globo. Il vostro amico qui non avrà il Sole direttamente sopra la sua testa perché si trova ad un'ora di distanza da voi. Pertanto il suo angolo di elevazione sarà di 75 gradi perché la Terra ruota di 15 gradi ogni ora. Pertanto ad ogni ora avrete 15 gradi in meno. Qui avrete 75 gradi e qui avrete 60 gradi e qui 45 gradi e così via. Se vi fa confusione c'è un semplice modo per sapere se questo è esatto. Andate semplicemente su suncalc.org. Ora andate sull'equatore assicurandovi che la vostra attitudine sia attorno a 0 gradi. Potete scegliere la data dal 21 marzo perché il Sole si trova sopra l'equatore in quella data. Inoltre variate l'ora con un'ora in più dalle 13. Poi cercate di cliccare in giro per trovare i 90 gradi del Sole. Una volta che l'avete trovato variate l'ora dalle 13 alle 14 ed avrete 75 gradi d'altitudine del Sole. Adesso se volete scegliere le ore 15 avrete 60 gradi. Così è come funzionano gli angoli di elevazione sul globo. Se vogliamo che questi angoli funzionino sul modello della Terra piatta dovremmo essere in grado di conoscere i gradi e le distanze fra ogni località sulla Terra. E questo potrebbe aiutarci per disegnare una mappa accurata della Terra e la nostra mappa sarebbe inattaccabile. Quindi per tutti quelli che lavorano sulla mappa della Terra piana dimenticate per un momento la durata dei voli e dei fusi orari. Non serviranno mai per disegnare una mappa precisa. Focalizzatevi solo sugli angoli di elevazione e sugli angoli orizzontali o quelli che chiamiamo azimut. Parleremo in dettaglio di questo in seguito. Adesso torniamo su quello che stavamo facendo. Riuscite a comprendere la debolezza della Terra piatta? Se sì, vi farà piacere quanto seguirà. Eratostene non aveva idea di che cos'è l'atmosfera. Riteneva che la luce del Sole arrivava su linee parallele per far sì che i suoi calcoli funzionassero e funzionavano. Ora sappiamo che l'atmosfera curva la luce. Quindi se la luce del Sole curva, come può essere corretta la matematica di Eratostene? Non ha alcun senso. I suoi calcoli si basano su linee diritte. Pertanto credo che per salvare il modello del globo, i nostri scienziati ci hanno detto che l'atmosfera curva la luce quasi impercettibilmente, così se il Sole è apparente proprio sopra la linea dell'orizzonte, significa che il Sole reale invece si trova un pochino sotto e l'angolo fra essi è all'incirca 0,84 gradi. Quindi noi dovremmo supporre di credere questo senza alcun esperimento che sostenga quello che affermano? Secondo me questa è solo un'ipotesi. L'aria è piena di acqua e gas e sappiamo che l'acqua influisce molto sulla luce. L'aria spesso ingrandisce gli oggetti, li fa apparire più grandi e più vicini. A volte funziona come l'acqua, altre volte no. Non sappiamo veramente cos'è o come funziona. Pertanto, scienziati, per favore, smettete di fare ipotesi che si basano su numeri. Ok, ora andiamo a rifare l'esperimento di Eratostine, ma questa volta usando la rifrazione. La differenza fra la prima e la seconda parte è la rifrazione. Abbiamo aggiunto una lente concava che rappresenta all'atmosfera. Il resto è sempre lo stesso. E no, non stiamo dicendo che l'atmosfera è concava. Non sappiamo cos'è. Ogni lente vi fornirà un risultato interessante. Quindi abbiamo scelto una lente concava. Pertanto, focalizzatevi su questo perché sbalordirà la vostra mente. Vado a fare del mio meglio per renderlo più facilmente comprensibile. La lente concava si trova a 30 cm sopra il tavolo e la lampadina è sempre alla stessa altezza di 50 cm. Il chiodo al centro del foglio è a 90 gradi sotto la lente e la lampadina. Questo è il motivo per cui non ha alcuna ombra. L'abbiamo messo là per essere certi che sia a 90 gradi sotto la lampadina. La distanza fra ogni oggetto è la stessa di prima, ma come potete vedere adesso le ombre sono più lunghe di prima a causa della lente concava. Questo è quello che fa la lente concava alla luce. Fa sì che i raggi di luce divergano e questo fa sì che le ombre diventino più lunghe. Ok, vediamo l'esperimento. Vado a scrivere tutti i dettagli sullo schermo perché è difficile vedere i numeri, ok? Iniziamo con la distanza di 10 cm. Prima di mettere la lente l'ombra era di 1 cm ed ora è di 1,7 cm. È più lunga adesso di prima. Anche questo chiodo è a 10 cm dal centro e la sua ombra è la stessa di prima, 1,7 cm. Questo si trova a 5 cm dal centro e prima di inserire la lente l'ombra era di 0,5 cm, mentre adesso è di 0,83 cm. Questo è il più lontano e si trova a 15 cm dal centro. La sua ombra, prima di mettere la lente, era di 1,5 cm ed ora è di 2,69 cm. Usiamo due decimali per mostrarvi quanto può essere esatto su un tavolo a globo che potrete vedere più tardi. L'ombra è la stessa della precedente, 2,69 cm. Anche questo chiodo si trova a 10 cm dal centro e anche la sua ombra è di 1,7 cm. E questo è un altro che si trova sempre a 10 cm dal centro ed anche la sua ombra è 1,7 cm. L'ultimo è lontano 5 cm dal centro e la sua ombra è 0,83 cm. Come potete vedere, anche se cambiamo la direzione dei chiodi, hanno la stessa ombra. Quindi la distanza su cui andremo a lavorare è 5, 10 e 15 cm. E le ombre su cui andremo a lavorare sono 0,83 cm, 1,7 cm e 2,69 cm. Pertanto, giusto adesso, andiamo a fare alcuni test. Il primo sarà triangolare la lampadina usando queste ombre lunghe. Pertanto, per triangolare, devo andare a modellare tutto, rendere la nostra matematica semplice e facile da capire. Questo è quello che ho fatto. Ho disegnato la stessa cosa che vedete sul tavolo, tracciando una linea dalla punta di ogni ombra alla punta di ogni chiodo ed ho semplicemente allungato tutte le linee per vedere dove si intersecano. Perché se i raggi arrivano dalla lampadina, allora tutte le linee dovranno intersecarsi sulla lampadina come nel primo esperimento, giusto? Ma come potete vedere qui, i raggi di luce non si intersecano nella lampadina ma passano tutti attraverso la lente. Questo significa quindi che è la lente che causa l'allungamento delle ombre. Ora, immaginatevi piccini su questo foglio dove cercate di triangolare la lampadina ma non avete alcuna idea che lassù c'è qualche lente nel cielo perché non potete vederla come non potete vedere l'atmosfera. Pertanto, la vostra triangolazione sarà sempre sbagliata perché vi darà sempre delle distanze differenti dalla lampadina perché la lampadina non si trova dove pensate dovrebbe essere, state semplicemente triangolando il suo riflesso. E se siete così piccoli su questo foglio, allora la luce che vedrete sarà semplicemente un'altra immagine della luce che si proietta da qualche parte sulla lente, ma dal tavolo non riuscirete a vederla. Quindi, se non si considera la lente, i vostri calcoli non saranno corretti anche se li farete a funzionare. Provate ad immaginare che Eratostene si trovi su questo tavolo, proprio adesso che osserva la lampadina attraverso questa lente. Riesci a vedere dove si trova la vera lampadina? Chiaro che no. Andrà a fare alcune triangolazioni per sapere quanto è lontana la lampadina, ma lui è molto sveglio. Automaticamente si renderà conto che la triangolazione della lampadina su una terra piana non funzionerà mai perché ogni volta che farà questo terrà delle distanze differenti dalla lampadina. Pertanto ha pensato che il tavolo non può essere piatto perché se fosse stato piatto allora tutti gli angoli di elevazione o di raggi di luce si sarebbero intersecati al centro della lampadina esattamente come nel primo esperimento. E gli ha dovuto pensare che il tavolo era rotondo perché i suoi calcoli avrebbero funzionato solo su un tavolo rotondo perché non aveva alcuna idea di cosa può fare l'atmosfera alla luce. Questo in dettaglio è quello che ha fatto Eratostene. Immaginate che questo chiodo a sinistra è Alessandria ed il chiodo al centro è Siene. Siene nel suo esperimento era a 90 gradi sotto il sole ed anche nel nostro esperimento si trova a 90 gradi sotto la lampadina. Ora, la distanza fra Siene ed Alessandria era 800 chilometri o 500 miglia, ma nel nostro esperimento abbiamo ritenuto che fosse di 15 centimetri. Avremmo potuto usare 80 centimetri per mantenere la scala, ma non avevamo una lente enorme in grado di coprire troppa distanza. Ma non è un problema perché la matematica di Eratostene funziona su tutte le distanze sul globo e lo dimostrerò anche a voi. Bene, l'ombra di questo chiodo che rappresenta Alessandria è 2,69 centimetri. Quindi, per avere l'angolo dell'inganno che Eratostene ha usato nel suo esperimento, tutto quello che dobbiamo fare è disegnare un chiodo di 5 centimetri e disegnare l'ombra che è di 2,69 centimetri. Poi misuriamo questo angolo che è di 28,26 gradi. Eratostene ha diviso 360 gradi col suo angolo dell'inganno che era di 7,2 gradi, ma nel nostro caso è 28,26 gradi. Pertanto otteniamo 12,73 centimetri con diversi decimali. Poi Eratostene ha moltiplicato il risultato per la distanza. Se andiamo a fare la stessa cosa, dovremmo moltiplicare 12,73 per 15 centimetri. Così otterremo una circonferenza di 191,08 centimetri. Questo significa che 191,08 centimetri è la circonferenza del tavolo a globo. In questo momento si suppone che il tavolo è un globo perché gli angoli funzionano, giusto? Quindi il tavolo adesso è un globo con una circonferenza di 191,08 centimetri che dà un raggio di 30,411 centimetri. Ok? Questo è fantastico, ma hey, torniamo indietro, non abbiamo ancora finito. Noi siamo molto meglio di Eratostene. Possiamo dimostrare che il tavolo è un globo facendo diverse misurazioni e non solo una. Per prima cosa andiamo a misurare l'angolo di elevazione di ogni chiodo. Eccoci qui. Questo è il chiodo più vicino a quello centrale, ad una distanza di 5 centimetri da esso. Il suo angolo di inganno è di 9,42 gradi ed il suo angolo di elevazione è di 80,58 gradi. La stessa cosa per l'altro chiodo, dalla parte opposta, hanno le stesse ombre. Ora, se vogliamo usare la formula di Eratostene faremo questo. 360 gradi diviso 9,42 gradi ci dà 38,21 e molti decimali. 38,21 con la distanza che è di 5 centimetri, otteniamo ancora 191,08 centimetri. Il risultato è uguale alla prima circonferenza ottenuta con la distanza di 15 centimetri, se vi ricordate. Adesso andiamo a fare la stessa cosa con l'ultima distanza che è di 10 centimetri e dovremmo ottenere la stessa circonferenza. Diamo un'occhiata all'angolo dell'inganno, 18,84 gradi. Quindi, ancora una volta, 360 gradi diviso l'angolo di elevazione che è 18,84 gradi, otteniamo 19,1 ed altri decimali. 19,1 per 10 otteniamo ancora 191,08 e l'angolo di elevazione di questo è 71,16 gradi. Andiamo a testare questo angolo su una palla, come abbiamo fatto nel modello a globo. Andiamo a vedere se questi angoli funzionano veramente. Vado a disegnare un tavolo a globo con il raggio di 30,411 centimetri. La circonferenza è di 191,08 centimetri. Ora vado a disegnare la distanza di 5, 10 e 15 centimetri sul tavolo a globo, perché queste sono tutte le distanze che abbiamo impiegato nell'esperimento con i nove oggetti. Potevamo usare distanze maggiori, ma avevamo solo una piccola lente concava che non era in grado di coprire distanze più grandi. Quindi queste sono le distanze. Ora immaginate i raggi della lampadina che sono paralleli proprio come il sole. I chiodi devono essere perpendicolari su questo globo. Non abbiamo bisogno di disegnarli perché non sono necessari. Vado a disegnare i raggi di luce sopra i punti di questi chiodi invisibili che si trovano sul globo in questo momento, non una superficie piatta. Ora vado avanti e disegno delle linee tangenti per essere in grado di misurare gli angoli. Una volta che tutto è disegnato, possiamo iniziare le misurazioni degli angoli per confrontarle con gli angoli che abbiamo sul tavolo piano. Iniziamo con gli angoli di elevazione. Per prima cosa andiamo a calcolare gli angoli dalla distanza di 5 centimetri. L'angolo di elevazione è di 80,58 gradi. L'angolo dalla distanza di 10 centimetri è 71,16 gradi. L'angolo che si trova a distanza di 15 centimetri è 61,74 gradi. Se li confrontiamo con gli angoli che abbiamo ottenuto sul tavolo piatto, abbiamo esattamente gli stessi angoli. Questo significa che il tavolo è un globo? No! Il problema qui è che non teniamo conto della rifrazione. Stiamo facendo i calcoli ciechi, come ha fatto Eratoste nel 2000 anni fa. Così la rifrazione ci fa pensare che il tavolo piatto è un globo, perché i calcoli funzionano solo con un globo. Volete misurare l'angolo dell'inganno di Eratostene? Torniamo al nostro disegno. Ora, osservate. Qui c'è il primo angolo che doveva essere 9,42 gradi. Il secondo angolo deve essere il doppio. Pertanto deve essere 18,84 gradi. Ed il terzo deve essere il triplo, 28,26 gradi. Otterrete questi angoli ovunque su questo globo. Ma questo significa che il tavolo è un globo? La matematica qui funziona perfettamente. La matematica di Eratostene era semplice, geniale, ma è completamente sbagliata, perché non ha mai tenuto conto della rifrazione. Ed ora, per i nostri scienziati, la rifrazione è insignificante. Così i loro calcoli funzionano ancora. Ma no, signore. La rifrazione non è per niente insignificante e possiamo dimostrarlo giorno dopo giorno. Ed ancora, non sto dicendo che l'atmosfera è concava come una lente. Vi sto solo fornendo un esempio di un tipo di rifrazione che funziona su un globo e non funziona su un piano piatto. Anche se in realtà si tratta di un piano piatto. E questo è il motivo per cui non funziona su un piano piatto o su una terra piana. Se vi trovate qui ed avete amici ovunque sul tavolo e tutti quanti voi conoscete le distanze fra di voi e gli angoli di elevazione, allora le vostre linee di triangolazione si incontreranno da qualche parte su questa linea, in un punto sotto la lampadina. E questo fa in modo che le vostre triangolazioni non sono corrette. Quindi potete terminare dicendo che il tavolo è un globo con una circonferenza di 191,08 centimetri, proprio come Eratostene. Bene, le persone intelligenti possono già rendersi conto che la palla che abbiamo creato calcolando gli angoli dalle ombre hanno lo stesso raggio della lente concava. Ora, se la lente fosse più grande, con la lampadina che gira attorno ad essa ed Eratostena fosse un piccolo individuo sul tavolo, egli penserebbe che il tavolo è un globo perché gli angoli funzionano su un globo. Qui qualcosa su cui pensare. Cosa succede se il sole circola sopra una lente concava o se la lente concava è quella che ruota sotto un sole fisso? Cosa succede? Cosa succede se questa lente concava ha lo stesso raggio della Terra di 6.371 chilometri? Se è così, avremmo fatto gli stessi calcoli dove Eratostene vi ha detto che la Terra ha una circonferenza di 40.075 chilometri. Meritiamo un piace e la condivisione? Speriamo vi sia piaciuta la presentazione di questo video del Dottor Zak. Se avete trovato informativo questo video, per favore mettete un like, condividete ed iscrivetevi al Dottor Zak. Potete scrivere al Dottor Zak a zikoworld123-gmail.com E grazie di aver guardato.